In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Laudetur Iesus Christus. Semper laudetur. Maria Sede Sapientiae. Ora Pronobis. Continua la lettura dell'Imitazione di Cristo. Libro II. Capo XI. Che pochi amano la croce di Gesù. Molti ha ora Gesù che amano il suo regno celeste, ma pochi che portino la sua croce. Molti ha che desiderano la consolazione, ma pochi che desiderano la tribolazione. Molti compagni trova alla mensa, ma pochi nell'astinenza. Tutti bramano godere con Lui, pochi vogliono sopportare per Lui qualche cosa. Molti seguono Gesù sino al frangere del pane, ma pochi fino a bere il calice della passione. Molti venerano i Suoi miracoli, pochi seguono l'ignominia della croce. Molti amano Gesù finché non sorge alcuna avversità. Molti lo lodano e benedicono finché ricevono da Lui qualche consolazione. Ma se Gesù si nasconde e per poco li lascia, cadono tosto in lamenti o in uno scoramento estremo. Coloro invece che amano Gesù per Gesù e non per alcuna loro consolazione, in ogni tribolazione ed angustia del cuore, lo benedicono, come nella somma consolazione. E se Egli non volesse mai dar loro consolazione alcuna, sempre tuttavia lo loderebbero e sempre vorrebbero ringraziarlo. O quanto è possente l'amor di Gesù, puro, non mescolato con alcuna comodità nostra, con alcun amore di noi stessi. Forse che non debbono dirsi mercenari tutti quelli che cercano sempre consolazioni. Forse che non si dimostrano amanti più di se stessi che di Cristo, coloro che pensano sempre alle comodità e ai guadagni. Dove si troverà chi voglia servir Dio gratuitamente? Di rado si trova alcuno così spirituale che sia nudato ad ogni cosa, poiché chi troverà l'uomo veramente povero di spirito e nudo ad ogni creatura? Il suo pregio è come di cosa che venga dai più lontani confini del mondo. Se l'uomo avrà dato tutto ciò che possiede, è ancora niente. E se avrà fatto grande penitenza, è ancora poca cosa. E se avrà acquistato tutta la scienza, è ancora ben lungi dalla meta. E se avrà virtù grande e devozione viva ed ardente, gli manca ancor molto, cioè una cosa sola, che gli è sopra di tutte necessaria. che cosa, che dopo aver lasciato tutto, lasci se medesimo, ed esca pienamente da se stesso, e nulla ritenga di privato amore. E che, quando abbia fatto tutto ciò che avrà riconosciuto di dover fare, senta che non ha fatto nulla. Non istimi gran cosa che gli possa essere reputato grande, ma si confessi veramente servo inutile. Come dice la verità, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite, siamo servi inutili. Allora potrà veramente essere povero e nudo di spirito, e dir col profeta, povero e solo sono io. Nessuno però sarà più ricco, nessuno più potente, nessuno più libero di lui, che sa lasciare se stesso e tutte le cose, e porsi all'infimo luogo. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur, in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen.